buonasera amici amiche di nuova news 24 li avevamo visti a uomini e donne scegliersi più innamorati che mai nicole carlo nicole santinelli ha finalmente rotto il silenzio però su quello che è successo davvero con carlo carlo e nicole sono stati ospiti di verissimo proprio qualche giorno fa hanno fatto una lunga intervista nel saluto di silvia tofanin nell'amore sembrerebbe essere stato veramente però interrotto bruscamente perché i due sembravano felici chiaramente ha deciso di non frequentarlo più in maniera veramente repetita l'ho fatto con un lungo audio pubblicato su instagram ciao a tutti con tanto dispiacere mi trovo costretta andando contro i miei tempi a fare questo comunicato ha dichiarato nicole sinceramente ieri dopo un momento così difficile per me neanche dopo 30 minuti c'eravamo lasciati io non mi sono sentita di esternare il tutto a voi piuttosto vista la buona fede con cui ci siamo lasciati mi sarei aspettata di comune accordo di dargli le notizie insieme perlomeno di avere il tempo di metabolizzare la mia delusione anche se sono stata io a prendere questa decisione l'ho fatto per tutti e due perché nel modo in cui vedo l'amore nessuno dovrebbe mai cambiare la propria essenza per qualcun altro la mia scelta deriva da particolari emozioni che non ho trovato in quel momento ma una volta usciti da quel programma insieme vivendoci giorno per giorno mi sono resa conto ma ricordo che vediamo e vediamo l'amore in maniera totalmente diversa questo quello che ha scritto nicole santinelli e quindi che lascia proprio andare il suo carlo quello che ho provato nel programma non posso negarlo sono piaciuta per tutte le persone che hanno creduto in noi ma non sarebbe stato giusto fingere portando avanti una storia senza futuro a proposito di futuro intanto mi state chiedendo come andrà a finire tra me e andrea quello che ho provato e pensato con lui nel programma non posso negarlo ringrazio anche tutte le persone che invece di attaccarmi hanno cercato di capire quello che stava succedendo quello che è successo grazie a tutti chiude intanto proprio carlo sembra esserci rimasto molto male per quello che è successo con la sua quindi ormai ex nicole santinelli amici 9 news 24 vi chiediamo cosa ne pensate di questa coppia che si è creata in poco tempo e soprattutto è scoppiata in maniera veramente repentina diteci cosa ne pensate intanto se vi è piaciuto questo articolo mettete il pollice in su e seguiteci sempre su nova news 24